numero 5 questo è una stufa elettrica da esterno ad alta potenza che può raggiungere un totale di 13 kilowatt di potenza massima questo la rende ideale per aree tra 20 e 25 metri quadrati mantenendo una temperatura piacevole senza alcun inconveniente è un modello completamente resistente alle intemperie alla luce del sole e alle alte temperature sopportando perfettamente qualsiasi tipo di condizioni atmosferiche è a forma di fungo e a un riflettore superiore che gli permette di avere un ritorno di calore ideale per riscaldare grandi stanze funziona con bombole di gas butano e il suo consumo è di 870 grammi l'ora il suo sistema di accensione piezoelettrico permette di ridurre i consumi e può essere regolato con un termostato per adattarlo perfettamente alle vostre esigenze il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 4 si tratta di un stufa elettrica da esterno che permette di mantenere una buona atmosfera e che funziona per mezzo di fibre di carbonio ad alta efficienza questo permette una rapida emissione di calore senza essere influenzato da correnti d'aria grazie al suo sistema di radiazione infrarossa è possibile ottenere un'atmosfera piacevole senza alcuno sforzo a tre diversi livelli di calore che sono 650 1350 o 2000 watt è un dispositivo molto facile da controllare dato che si può regolare con la pressione di un pulsante o direttamente con il suo telecomando inoltre ha una protezione ip65 che gli permette di essere usata all'aperto senza alcun inconveniente trovi il link di questo articolo in descrizione numero 3 questa stufa elettrica da esterno ti permette di avere una potente fonte di calore e una grande efficienza nel riscaldare tutti i tuoi ambienti può essere regolato su tre livelli di potenza di 500 1000 1500 watt al tocco di un pulsante inoltre ha un telecomando che permette di regolare facilmente l'intensità del calore senza alcun inconveniente è molto facile da installare grazie alla sua catena in acciaio inossidabile di 50 centimetri che permette di montarla facilmente su qualsiasi soffitto fornisce un'alimentazione di calore multidirezionale che si distribuisce uniformemente senza bisogno di preriscaldamento ha una protezione ip34 che la rende totalmente sicura per l'uso all'aperto e ha una griglia di sicurezza protettiva per evitare qualsiasi incidente se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto clicca il link in descrizione numero 2 questa è una stufa elettrica da esterno ideale per la terrazza o il balcone e può essere usata perfettamente tutto l'anno è dotata di una tecnologia di riscaldamento a infrarossi che riscalda la stanza nel modo più efficiente possibile ha tre emettitori di carbonio da 900 watt che ti permettono di avere la massima efficienza possibile la sua potenza massima è di 2700 watt che assicurerà una temperatura confortevole in qualsiasi giardino o terrazza ha un comodo telecomando è totalmente adatta all'uso esterno grazie alla sua protezione ip34 quindi può essere utilizzata anche in caso di pioggia senza mettere a rischio la vostra sicurezza in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto numero 1 ha due ruote che rendono molto più facile spostarlo da un posto all'altro senza problemi può fornire una potenza termica fino a 10,5 kilowatt il che lo rende molto utile per gli spazi esterni incorpora una griglia di sicurezza in acciaio inossidabile di alta qualità e un tubo di vetro resistente al calore ha anche un sistema di spegnimento automatico e una protezione anti ribaltamento il suo gruppo di combustione è stato testato e certificato dal dvgw tedesco se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione